Il mio buongiorno, ciao a tutti, intanto il mio buongiorno dopo tre mesi che non sono più in video su YouTube, il mio buongiorno ve lo faccio dalle ferie, esattamente dalle Dolomiti. Sono a 2000 metri, ci siamo fatti un bel giretto nel bosco, adesso siamo ancora nel bosco, alla fine della passeggiata andremo a mangiarci la nostra polenta con funghi, salsiccia, capriolo e chi più ne ha ne metta. Solo per dire che dopo le ferie ritorno e speriamo di riprendere la produzione dei video. Intanto ho ancora il mio blog e nel frattempo sto scrivendo ancora molte cose, ogni giorno praticamente scrivo sul mio nuovo blog che è www.vscarfia.com senza il www. Ecco sentite il corvo in lontananza, il clima è ideale, lo dico per chi in questo momento è sui 40 gradi, qui ce ne sono 15-16 dove non c'è il sole si sta appena appena bene e dove c'è il sole si sta benissimo, il sole picchia e brucia. Bene, ciao a tutti e a presto!